Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Un discorso di un'ora per chiedere al Senato la fiducia che otterrà. Mario Draghi questa mattina ha parlato in aula indicando alcune priorità, tra tutte quella di distribuire il vaccino rapidamente ed efficientemente. Questo governo ha detto che non è nato per il falimento della politica, insieme combatteremo contro un nemico comune, il virus. Il premier ha parlato anche di scuola, di Europa e ha chiesto ai cittadini di essere orgogliosi del loro paese. L'unità è un dovere per affrontare il virus che è nemico di tutti. L'euro è irreversibile. Vanno recuperate le ore perse a scuola a causa della pandemia. Ai cittadini promette che saranno informati con anticipo su ogni cambiamento delle regole e chiede di essere orgogliosi del proprio paese. Mario Draghi stamattina ha chiesto la fiducia al Senato con un discorso durato poco più di un'ora, durante il quale ha delineato il suo programma ed indicato le priorità dall'emergenza sanitaria al recovery plan. Il principale dovere a cui siamo chiamati tutti, ha detto, riguarda la nostra responsabilità nazionale. Dobbiamo combattere con ogni mezzo la pandemia e salvaguardare le vite dei cittadini, una trincea dove combattiamo tutti insieme. Il virus è nemico di tutti. Draghi ha poi rivolto un pensiero a coloro che soffrono per la crisi causata dalla pandemia. Ci impegniamo a fare di tutto perché possano tornare nel più breve tempo possibile nel riconoscimento dei loro diritti, alla normalità delle loro occupazioni. Ci impegniamo, ha aggiunto, a informare i cittadini con sufficiente anticipo, per quanto compatibile con la rapida evoluzione della pandemia, di ogni cambiamento nelle regole. Draghi ha quindi affermato di non ritenere che il nuovo esecutivo si sia reso necessario per il fallimento della politica e ha ringraziato il suo predecessore Giuseppe Conte. Sostenere questo governo, ha precisato l'ex governatore della BCE, significa condividere l'irreversibilità della scelta dell'euro e la prospettiva di un'Unione Europea sempre più integrata. Senza l'Italia non c'è l'Europa, ma fuori dall'Europa c'è meno Italia. Quindi un invito ai cittadini ad essere orgogliosi del loro paese. Il Presidente del Consiglio ha affrontato anche il tema dell'istruzione. Non solo dobbiamo tornare rapidamente ad un orario scolastico normale, anche distribuendolo su diverse fasce orarie, ma dobbiamo fare il possibile per recuperare le ore di didattica in presenza perse. In merito al piano vaccinale, Draghi ha sottolineato che c'è bisogno di mobilitare anche protezione civile, forze armate e volontari, oltre che di rendere possibili le somministrazioni in tutte le strutture disponibili pubbliche e private. La nostra prima sfida, ottenute le quantità sufficienti, è di distribuire il vaccino rapidamente ed efficientemente. Sul fronte del lavoro il Premier ha detto che il governo dovrà proteggere tutti i lavoratori, ma che sarebbe un errore proteggere indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche radicalmente. L'impegno è anche quello di superare il gap salariale di genere e la cronica scarsità di donne in posizione manageriale di rilievo. Sul turismo ha dichiarato che avrà un futuro se non dimentichiamo che vive della nostra capacità di preservare città d'arte, luoghi e tradizioni. In tema di infrastrutture, ha sottolineato che occorre investire sulla preparazione dei funzionali pubblici per permettere alle amministrazioni di pianificare, progettare ed accelerare gli investimenti con certezza dei tempi, dei costi, in piena compatibilità con gli indirizzi di sostenibilità e crescita indicati nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quanto al Recovery Fund, ha dichiarato che la strategia per i progetti del Next Generation deve essere trasversale e sinergica, capace di impattare simultaneamente in più settori. Queste risorse, aggiunto, dovranno essere spese puntando a migliorare il potenziale di crescita della nostra economia. Ed ora la cronaca. Tre persone sono state aggredite con violenza ieri sera a Monrupino da un gruppo di ragazzi probabilmente alterati dall'alcol. Sono stati medicati in ospedale ed uno di loro non è ancora stato dimesso a ricevere pugni e calci. In faccia è stato anche Antonio Parisi, esponente della comunità LGBT di Trieste. È stato un attacco omofobo, dice Sporgerò, denuncia. Aggressione omofoba ieri sera sull'altopiano del Carso. Protagonisti dei ragazzini poco più che maggiorenni che hanno sfogato la loro rabbia contro tre persone, probabilmente in preda all'alcol. La scena da incubo con pugni e calci in faccia si è verificato poco dopo le 18 all'uscita da uno smizza, ai danni di tre amici che tentavano di raggiungere la propria auto, parcheggiata nella piazzetta della frazione di Monrupino. Tra le vittime è anche Antonio Parisi, esponente della comunità LGBT di Trieste e volto noto in regione per i parti dedicati al mondo etero e gay con il claim Iota Assassina. Io sto bene, sembro un panda ma sto bene. Volevo ringraziare tutte le persone dal Friuli, amiche, persone che mi seguono, che mi stanno scrivendo. Io sono ridotto così, il mio amico è ancora in ospedale con un naso rotto e non so quando lo dimetteranno. Io tornerò in ospedale nel pomeriggio per farmi rifertare e ovviamente farò denuncia. Siamo stati aggrediti in maniera feroce da un branco di ragazzi giovanissimi alterati e sono stati di una ferocia incredibile. Io ero per terra, coprandomi il volto per non avere altre ferite più importanti al volto, però tiravano calci in faccia. Attacco omofobo? Sì, è stato un attacco omofobo. Ce l'avevano con me. Già dall'inizio, nel pomeriggio, quando sono entrato, ero stato fatto scherno di battute, però non ho veramente accolto la loro provocazione. E dopodiché l'alcol li avrà resi ancora più incattiviti, forse proprio perché non rispondevo alle loro provocazioni. I giovani aggressori se la sono data a gambe prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sul caso indagano i carabinieri. Il furto nella notte al distributore Cona di Porcia e malviventi hanno divelto le colonine self-service con una ruspa rubata in un cantiere lì vicino. Hanno rubato una ruspa in un vicino cantiere e con questa hanno divelto due colonine del self-service al distributore della Cona da Porcia. Ma il furto non è andato a buon fine per l'arrivo della polizia che stava pattugliando la zona e ha messo in fuga i ladri. Sul posto, allertato dalla centrale della questura di Pordenone, anche il corpo dei vigili notturni. Il colpo è stato tentato nella notte, attorno alle tre, quando i malviventi hanno letteralmente strappato dal suolo le colonine dove si effettuano i pagamenti per i rifornimenti usando la palla di una ruspa. Dopodiché hanno caricato le colonine su un pick-up rubato a San Vito al tagliamento per portarle via. L'intervento dei poliziotti però li ha costretti alla fuga, obbligandoli ad abbandonare il bottino che è stato recuperato dalle forze dell'ordine. I ladri sono scappati a piedi attraverso i campi e, come scoperto in seguito, hanno rubato un'auto al baretto di Porcia facendo perdere le tracce. Nulla è stato rubato ma i danni sono ingenti. Il direttore della Conad, Stefano Ormentini, questa mattina ha sporto denuncia in questura. Il contenuto delle colonine che svuotiamo ogni mattina, racconta il direttore, era minimo poco più di 200 euro, mentre i danni sono nell'ordine dei 40 mila euro. Senza l'intervento della polizia, che ringrazio, avrebbero potuti essere molti di più, conclude. I poliziotti intanto sono al lavoro per ricostruire l'intero accaduto e cercare di risalire agli autori del gesto. È partita questa mattina dalla questura di Pordenone la vaccinazione anti-covid per le forze dell'ordine del Fiore Venezia Giulia. Il primo a essere vaccinato è stato l'agente più giovane della squadra volante. È partita questa mattina alle 8.30 nella questura di Pordenone la vaccinazione anti-covid riservata alle forze dell'ordine nel Friuli Venezia Giulia. L'ufficio sanitario provinciale della Polizia di Stato ha somministrato il vaccino agli uomini della squadra volante e nei prossimi giorni saranno coinvolti anche gli altri reparti. Alta l'adesione tra il personale della questura, che ha toccato l'81%. Sono veramente contento, anche un po' commosso, perché ripeto, spesso e volentieri operatori della Polizia Stradale, piuttosto che delle volanti, negli interventi quotidiani non sempre possono rispettare il distanziamento. I primi due a essere vaccinati sono stati l'agente più giovane delle nostre volanti, un 24enne, l'agente rifugio, arrivato appena un anno fa, e il dirigente delle volanti. L'altro aspetto è che in tutto questo anno di pandemia del comparto volanti nessun operatore si è contagiato, quindi è di prova che hanno saputo preservare se stessi per preservare la collettività. In futuro l'ufficio sanitario affiancherà l'ASFO, dove è necessario, nella somministrazione al personale delle altre forze dell'ordine, come Vigili del Fuoco, Prefettura, Polizia Locale. In prima battuta sarà inoculato il vaccino AstraZeneca, riservato gli Adler 55, ma in futuro sarà interessato anche il personale meno giovane, probabilmente con il vaccino di Moderna. Sono stati forniti i vaccini AstraZeneca, sicuramente efficaci, riservati per la fascia ricompresa tra i 18 e i 55 anni, solo 50 al giorno, dalle 9 alle 19 fino a venerdì, poi calendizzeremo anche altre eventuali somministrazioni. Mi afferma tutte le attività di spettacolo dal vivo, ma la Friuli Venezia Giulia Orchestra scommette sul futuro, puntando come di consueto sulla qualità. Il Consiglio Direttivo dell'Istituzione Sinfonica e Musicale del Friuli Venezia Giulia Orchestra ha deliberato di emanare un nuovo bando, sono aperte quindi le iscrizioni alle audizioni per la copertura dei ruoli di violino di fila e concertino dei primi violini, al fine di assumere a tempo indeterminato alcuni musicisti di elevata qualità artistica, un forte segnale di attenzione nei confronti dei migliori artisti sul mercato, proponendo la possibilità di sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato. E ci sarà tempo fino al 7 marzo per visitare la mostra La Passione dell'Arte, ospitata in Galleria Sagittaria, nella quale sono esposte 90 opere raccolte dal collezionista trevigiano Valentino Dal Pio Luogo. Più di 90 opere tra pittura, scultura, disegni e incisioni di grandi artisti italiani e anche stranieri. È la proposta di La Passione dell'Arte, l'esposizione allestita alla Galleria Sagittaria in Via Concordia 7 a Pordenone e visitabile fino al 7 marzo, nella quale è stata messa in mostra la collezione dell'appassionato trevigiano Valentino Dal Pio Luogo, da lui riunita nella sua dimora a Orsago. Si tratta della 469esima mostra d'arte allestita alla Sagittaria, frequentata assiduamente dal collezionista Veneto e promossa dal Centro Iniziative Culturali di Pordenone. Domani, mercoledì 17, poi venerdì 19 e lunedì 22 febbraio, ci sarà la possibilità di esplorare il percorso espositivo con la guida del curatore della mostra, Giancarlo Paoletto, che accompagnerà il visitatore tra le opere di artisti del calibro di Armando Pizzinato, Marcello Mascherini, Giovanni Barbisan, Giorgio Celiberti, amico di Dal Pio Luogo e come lui nato il 14 febbraio, Giorgio Di Venere, Carlo della Zorza, Sironi, Carrà, Saetti, Carena, Gianquinto, Ferroni, Guttuso, Rosai, Murer, Guidi, De Pisi, Stamburini e Guccione. Per le visite guidate, gratuite su prenotazione, telefonando al Centro Iniziative Culturali Pordenone, il pubblico sarà suddiviso in piccoli gruppi, seguendo le disposizioni in ottemperanza alle norme di sicurezza con procedure di sanificazione e distanziamento. Per tutta la durata della mostra si potrà seguire anche il percorso virtuale sul sito www.centroculturapordenone.it e sui canali social Facebook e Youtube. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la linea, il telegiornale poi ritornerà in diretta alle 16.30. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie per la visione!